Letterine, disegni, messaggi di pace affidati alla preghiera sono i piccoli nisseni che nella settimana santa hanno posto ai piedi di alcune varie loro pensieri. C'è chi con discrezione piega il foglietto in cui ha affidato le sue preghiere, chi invece lega ad un elastico un fiore e come Antonio che chiede alla dolorata di proteggere il papà e il nonno ed anche chi realizza dei cuori colorati con i colori della bandiera ucraina. La devozione dei piccoli e giovani nisseni passa dai loro gesti semplici e concreti, la richiesta di pace, pace per il mondo perché è la priorità per loro che da due anni hanno vissuto la pandemia, hanno capito cosa voglia dire il distanziamento, la privazione della spensieratezza e che oggi ascoltano le notizie che riguardano i loro coetanei che vivono il dramma della guerra. Una semplicità a cui il mondo adulto dovrebbe tornare, come scrisse nella poesia pro memoria Giovanni Rodari, ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno e ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra.